Weee! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi tante tantissime novità anche oggi soprattutto giornata super importante per quello che riguarda gli aggiornamenti di Fortnite in quanto verrà introdotta questa mattina sembrerebbe alle ore 10 la patch relativa al Fortnite MERS! L'ultima patch in arrivo non sappiamo ancora ma non credo che ci sarà un downtime dei server ovviamente però ci aspettiamo tante cose anche per questo evento terzo dedicato ad Halloween e quindi al Fortnite MERS! Nel video di oggi ragazzi parleremo anche però dello starter pack sì perché dovrebbe essere disponibile proprio oggi con l'arrivo del nuovo aggiornamento e oltre allo starter pack ovviamente tutti sono in trepidazione per la possibile riuscita della Ghoul Trooper anche perché come vi anticipavo nel video di ieri mattina il 29 ottobre cioè oggi è esattamente il secondo anniversario dalla data di uscita della Ghoul incrociamo le dita e vediamo se verremo accontentati e se potremo finalmente ottenere una delle skin più rare del gioco ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live dalle 8 alle 18 su Twitch grazie mille ragazzi per la compagnia che ci teniamo a vicenda per divertirvi un pochettino insieme a me e grazie anche a tutti quelli che mi vogliono supportare inserendo il codice creator xuderone dai raga quando fate le show pazzate grazie mille per il supporto mi raccomando iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video prima è la domandina c'è dentro anche oggi c'è dentro anche oggi grazie per avermi risposto in tantissimi anche nei commenti di ieri qua sotto domandina di oggi super super facile ma te se dovessero tornare gli zombie li rivorresti? raga li abbiamo visti ci han provato la prima volta season 6 ci han riprovato la seconda volta season 7 han voluto infilarceli prepotentemente anche in season 10 a me non piacciono nel senso è figo ecco in season 10 figo mi metti gli zombie in un'area circoscritta mi sta benissimo ma ragazzi in season 6 avevi zombie che ti inseguivano per tutta la mappa così come in season 7 io sinceramente non li rivorrei ma quindi a parte la webcam che oggi sflicker un pochettino ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere l'immagine più importante di queste ultime ore che arriva direttamente dalle notizie di fortnite ma viene anche pubblicata sulla loro pagina twitter fortnightmers con una skin molto interessante perché questo se non ricordo male è l'agente del caos quello che è stato possibile acquistare tre o quattro giorni fa se non ricordo male con tanto di copertura la lava roba del genere insomma comunque una cosa particolare e anche le notizie in game dicono presto disponibile io non so veramente cosa dire preparati ad affrontare le tue peggiori paure un'altra immagine interessante arriva anche lo so che sta laggando la webcam vi chiedo scusa non c'ho tempo di rifarlo un'altra volta quindi ascoltate l'audio non riuscite a perdere la faccia da pirlo arriva direttamente anche dal sito ufficiale del play store ragazzi che dice fortnightmers 2019 inizia giovedì ottobre martedì ottobre 29 alle 11 e termina il 4 novembre quindi abbiamo già una data di fine del fortnightmers e questa data il 4 novembre e sapete cosa vi dico che io tolgo un attimo il green così almeno magari non sflickera più la webcam lo lasciamo un attimo verde oggi il 4 novembre ragazzi è la data il giorno prima della patch che verrà rilasciata invece il 5 novembre con l'arrivo anche del pack fuoco oscuro il dark fire bundle quindi aspettiamoci magari di vedere qualcosa di nuovo in questa in questi giorni probabilmente potrebbero arrivare anche delle sfide dedicate non mi parte più neanche il coso ma andiamo avanti ragazzi è sempre un casino perché perché non riesce mai a fare le cose fatte in un certo modo non si riesce mai a farle ragazzi andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento eccolo qua alle mie spalle lo starter pack l'avevamo già visto wave breaker pack wave breaker dovrebbe voler dire onda d'urto avevamo già detto che facciamo una scommessa se ci avevo azzeccato pack molto interessante al prezzo di 4,99 anche se sono apparse delle immagini in giro per il web che dicevano che il pack costasse 7,99 sinceramente mi sembra un pochettino strano come cosa abbiamo una una bellissima parte del gameplay di questo pack come vedete lo fermo un secondino come lo vedete il backpack davvero molto carino con gli spuntoni la skin devo ammettere che non è a fatto male ce la riguardiamo un secondo davvero non male pantaloni mimetici azzurri giacchetta molto corta occhiali da sole arriva nel pack anche il piccone che sinceramente non saprei ancora ricordare il nome e questa invece è una cosa molto particolare perché c'è una skin come state vedendo molto 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 simile al a quello che riguarda lo starter pack la cosa un pochettino curiosa è che in realtà la copertura per armi e veicoli non arriverà ragazzi insieme al pack ma potrebbe essere tranquillamente shoppabile a parte io quindi vi ricordo anche che ci saranno 600 vbucks dentro il pack come vedete anche proprio dalla descrizione consiglio sempre a tutti quelli che ne hanno la possibilità di prenderselo perché comunque vale davvero la pena anche solo per i 600 vbucks andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento mentre qua ovviamente non funziona neanche il replay quindi i miei personaggi corrono allegramente per tutta la mappa ecco una ghoul trooper in versione verde un pochettino più chiaro con i capelli bianchi questo stile della ghoul trooper è stato dato di già ai ragazzi che già avevano la ghoul trooper ai quali è stato dato ovviamente anche lo stile oggi quindi quello rosa tutti si aspettano appunto che oggi esca la ghoul trooper anche io me lo sto aspettando ma c'è una novità che è davvero interessante sembrerebbe che insieme alla ghoul trooper venga rilasciato questo beer brained quindi è un backpack un po' splatterino se devo essere sincero un orsacchiotto o meglio la testa dell'orso quello nero che abbiamo già visto qualche giorno fa con il cervello tutto che esce tipo roba strana che perde e dovrebbe appunto essere parte integrante del set della ghoul trooper è inserito nei file di gioco quindi è un backpack che sicuramente arriverà cercheremo di capire bene quando se e se ci abbiamo azzeccato con il discorso ghoul trooper e arriviamo praticamente alla fine del video dove volevo un attimo parlarvi molto velocemente di alcuni fix che verranno fatti e che sono già ufficiali di questa nuova patch e uno dei primi ragazzi è ovviamente quello del replay ci sono dei problemi non si possono vedere i replay in questi giorni i replay modi is currently bug i replay sono in questi momenti in questi giorni bugati noi vi anticipiamo che fixeremo il problema nell'11 nella patch 11.10 andiamo anche a vedere anche che le missioni le challenge ci dicono che danno 14.000 punti esperienza ma in realtà ne stanno dando 52.000 c'è sempre questa cosa comunque abbiamo già visto che danno molti più xp molte più xp le sfide quando le facciamo settimanalmente e abbiamo anche problemi per quanto riguarda lo spray che veniva dato allo allo shop del nano shop all'inizio della season numero 1 di questo capitolo 2 quando invece il pass battaglia viene regalato alcuni non ricevono lo spray e quindi fixeranno sicuramente anche questo problema io vi chiedo ancora scusa per i problemi della webcam di oggi però vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch con tutti i leaks del fort nightmares ciao